Siracusa, tagli personale ASU, brutta pagina di precariato, Ternullo si apre un tavolo con Roma. Il taglio dei fondi destinati alla stabilizzazione di oltre 4.500 ASU e in modo conseguenziale alla mancata integrazione del loro monte oro settimanale sarebbe una catastrofe. Premetto che stiamo parlando di unità operative che in questi 25 anni di assoluto precariato hanno garantito agli enti e alle strutture dove hanno prestato servizio un lavoro di comprovata responsabilità con sussidi ridicoli pari anche a 590 euro al mese. Solo nella provincia di Siracusa ne contiamo 133, gran parte dei quali stanziati presso il comune di Avola. Meritano rispetto, lo afferma la deputata di Forza Italia Lars Daniela Ternullo. Si tratta di una brutta pagina di precariato, conclude la parlamentare, che non contribuirò a scrivere ulteriormente. Ho appena incontrato il segretario generale della CIS da Siracusa Daniele Passanisi, il quale mi ha riferito della richiesta per un incontro delle principali sigle sindacali con l'assessore Scavone. Chiedo che si apra anche un immediato tavolo con Roma per scongiurare il peggio. Mi impegnerò finché ci sia la massima trasparenza nella risoluzione del problema. Di certo la politica è chiamata a risolverlo prima che diventi cronico.